e sui giornali oggi, quindi tanto vale che ne parli, anche io visto che ne stanno parlando altri, una vicenda abbastanza sgradevole, di cui il mio malgrado sono protagonista. Protagonista, come al solito, certo. Come al solito, cioè, beh, figurati no, se non c'ero di mezzo. Allora, devi sapere che io, già per il secondo anno, a Torino, faccio, insomma, do qualche idea, sono il direttore artistico di un festival che si chiama Giovani Adulti, che è rivolto per lo più ai bambini e ai ragazzi delle scuole, poi ha degli spazi, insomma, per gli adolescenti, si va dalle scuole elementari fino alle superiori, ci sono un sacco di attività, l'anno scorso abbiamo fatto un'edizione gigantesca, è andata, insomma, molto bene, c'erano un sacco di ragazzini, si sono divertiti tantissimo. Quest'anno è diventato un caso politico, tra ieri e oggi, esploso, perché salta fuori anche la stampa oggi, ieri, poi Repubblica, insomma, un po' di giornali a dire che è il festival della Meloni, dei Balilla, dei neofascisti. Ora, io ci tengo a raccontare questa storia perché voglio, visto che ho iniziato con un messaggio che è arrivato subito, di Domenico, che dice, Borgonovo è di destra, cambio frequenza, ha firmato Domenico il comunista. Io, Domenico, ti saluto, secondo me sono più comunista di te, ma molto di più. Ma questo non sarebbe bello però, non è che è un valore aggiunto. Ma ci fossero ancora un po' di comunisti seri, come una volta, altro che un po' di gente per bene, che lottava per il lavoro, per queste cose. Comunque, visto che subito si parte così, si divide sempre l'umanità in queste categorie che sono anche un po' sgradevoli, quindi volevo raccontarti questo perché a questo festival, intanto per lo più sono laboratori per i ragazzi, si parla di diritti umani, si parla di disabilità, ci sono degli sport, anche delle arti marziali, perché no? Ci sono dei laboratori di disegno, tutte cose, insomma, l'idea è dare ai ragazzi, tra l'altro di una periferia che mi raffiori a Torino, quindi un luogo un po' di difficoltà, a dargli la possibilità di fare qualcosa, di provare un'arte, uno sport, un'attività, e dire, sai, magari ti piace e puoi continuarla, puoi fare anche tu e puoi persino diventare bravo, puoi avere delle possibilità anche se vievi in un luogo che tutti considerano disagiato. Tutto questo è gratuitamente per i bambini che vengono lì, entrano e fanno quello che vogliono, va avanti fino a sera, poi ci sono dei dibattiti, vengono un po' gli opinionisti. Ora, questa roba viene per forza trasformata in, ecco qua, infatti subito arrivano i messaggi, questo è il mondo al contrario, non quello del tuo amico Vannacci, il fatto che sei divertentore artistico, sì, e mi dispiace, ho selezionato delle persone che secondo me sono molto valide, e lo sono per curriculum, che vengono a fare delle cose con i ragazzi, e questa cosa diventa immediatamente da parte, no? Alleanza di sinistra, il PD deve attaccare senza avere visto nulla. Senza essere stata presente, e deve parlare dei Balilla, mi accusano di aver fatto il festival su Men's Sana in Corpore Sano, che tra l'altro è un motto latino, bellissimo, è anche vero, perché se uno ha la mente libera sta meglio anche con il corpo, e se si prende cura del suo corpo ragiona anche meglio, mi sembra una cosa che sia sacrosanto insegnare a dei ragazzi, se comunque fargliela sperimentare, nessuno ha notato che in questo programma è pieno di figure, come dire, di ogni collocazione, c'è Monio Vadia, c'è Giulio Cavalli, c'è Verradino Gianrusso, che avete imparato a conoscere, verranno persone di ogni ordine e grado, ci sarà Giorgio Vozzo, ma io te lo dico per farvi tanta pubblicità, lo dico perché sono veramente affranto dallo stato di questi dibattiti, cioè io una volta, io provo a coinvolgere persone di ogni genere, lasciare da parte la politica perché non me ne frega nulla, dare delle cose che ritengo molto belle a questi ragazzi, poi uno mi può anche dire non mi piace quell'autore, ma non mi piace quell'altro, ce ne sono veramente una marea di queste cose lì dentro, non sappiamo più dove mettere i laboratori, tanti ce ne sono, e arriva in automatico, senza sapere nulla, l'attacco dicendo che promuoviamo la cultura dei Balilla, promuoviamo appunto il corpo che deve essere forte, sano, come sotto il nazismo praticamente, abbiamo un'intera cittadella di incontri sulla disabilità, a proposito dei corpi che bisogna sperimentare, delle situazioni che bisogna capire. E allora, per quale motivo la gente deve essere sempre? Ecco qua, un altro mi scrive, tu vai contestato sempre a prescindere per la persona che sei, vabbè, io ringrazio, allora contestate me per la persona che sono, non contestate i signori professionisti che vengono e che fanno del loro meglio, questo è il nostro dibattito, il dibattito pubblico è questa roba qua, anche i nostri amici odiatori che ci scrivono evidentemente vorrebbero sentire solo quello che gli pare, sentire solo gente che gli dà ragione, così rimangono nella loro bella camera dell'eco, si chiama così, così continuano a girargli gli stessi concetti in testa, non li mettono mai alla prova e questo gli uccide definitivamente il pensiero. Se uno vuole venite, siete tutti invitati, lo dico anche a voi, ci sono anche alla sera dibattiti con ospiti di vario ordine e grado, e quindi c'è Andrea da Torino che saluto, mi scrive, i giorni, chiede i giorni, sono mercoledì, giovedì e venerdì di questa settimana, a meno che non ci mandino la forza pubblica a interrompere questa cosa terribile di satanisti e diversori e fascistoni, incredibile, incredibile, non è una roba fatta per i ragazzini a gratis, vabbè.